A 6.22 Hai sbagliato i tuoi conti e sottovalutare i tuoi nemici è stato il tuo più grande errore. Scoprirai come la volontà di un solo uomo possa essere spezzata. Chi è un progetto, scoprirai come la scoprirai come la scoprirai come la scoprirai? Go, go, go! Preordina ora per Xbox 360 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!